buongiorno a tutti benvenuti alla conferenza stampa del film Cristina diretta da Nicola Spasic che abbiamo il piacere di accogliere buongiorno Nicola insieme a Milanka Gvojic che è cosceneggiatrice e produttrice e abbiamo le nostre fedelissime traduttrici e interpreti questa è una produzione serba e il film è qui selezionato in competizione internazionale ed è un'anteprima italiana ha ottenuto al FIDMAR6 il premio della giuria per il primo film e il premio per la migliore G al Festival di Siviglia Nicola questo è il suo è il suo primo lungometraggio di finzione e dopo diversi corti però mi sembra che sia un elaborato che gioca molto tra finzione documentario e sappiamo che il personaggio principale è un personaggio reale e non è un'attrice allora volevo sapere come è stata accompagnata Cristina in questa interpretazione del suo proprio ruolo come avete lavorato costruito insieme questo lavoro tra voi spie chi e te många un'att Stock Dad è un entrata un film che è un film perché è rimba tra chi ーー and we started this project six years ago Milanka who is here with me is also scriptwriter and and producer of the project I am director and the producer and we started it on we in the first place wanted to do documentary but but very soon we realized that that we want to make it as docu fiction and now it is more it is a little bit more fiction than documentary but it has some it has base in documentary it has a lot of documentary elements and it still has a huge amount of truth as documentaries has also every although everything in film is additionally stylized and yeah buongiorno innanzitutto vorrei vi ringrazio di essere qui questo film nasce come una docu fiction della mia tesi di dottorato in studi cinematografici è un progetto che insieme a Milanka che appunto sceneggiatrice e produttrice del film abbiamo iniziato sei anni fa all'inizio pensavamo di fare un documentario puro poi pian piano ci siamo orientati verso la docu fiction e alla fine è diventato un film prevalentemente di finzione anche se con sé rispetto a un documentario puro anche se conserva una serie di elementi tipici del documentario tra cui una quantità di informazioni e di dati reali rispetto poi a quelli che invece sono elementi stilizzati tipici della finzione uno while development we were on many development workshops one of development workshops also was a torino film lab which helped us a lot and we developed it i think in a most natural way to to explore and to show transgender subject I think that that combination of documentary and fiction and that decision to stay on the middle of it was was good and it was really hard to finance this project and we was shooting in phases every five years we was shooting for we could have money only for several shooting days and because of that we made some kind of fluid structure and we was always updating script after after every block of shooting and it was really hard for my screenwriter to follow the whole process but she managed to do that and she also was in whole process of film editing because we had like unusual process for for fiction film making that we had like block of shooting then block of editing and updating and updating and rewriting some scenes and then again shooting and then again rewriting and updating and it was really fluid but that lack of money from one side give us it's freedom to explore and to try different approaches in film which can be felt in the final final cut of our film thank you vorrei anche aggiungere che nello sviluppo di questo progetto abbiamo partecipato a diversi workshop uno di questi è stato il torino film lab e questo processo di sviluppo c'è stato estremamente utile per riuscire a trovare un modo molto naturale di avvicinarsi al tema del transgender e della transizione in generale e a trovare la forma più adatta per raccontare strutture questa 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 storia forma più adatta che appunto abbiamo individuato nella possibilità di farne una una docufission è stato un progetto piuttosto difficile da finanziare al punto tale che abbiamo dovuto procedere a blocchi un po forzati tra alcuni giorni di riprese e gli altri cercavamo di montare la produzione e questo però alla fine ha dato paradossalmente una struttura estremamente fluida perché così facendo siamo stati costretti a aggiornare la sceneggiatura via via che che giravamo e dovevamo poi attendere i finanziamenti successivi. è stato ovviamente particolarmente difficile per Milanka per la sceneggiatrice perché doveva costantemente aggiornare seguire quello che accadeva sul set e aggiornare la sceneggiatura c'è riuscita alla grande e appunto il procedimento che abbiamo adottato è stato sono stati blocchi di riprese blocchi di montaggio e poi l'aggiornamento e la riscrittura della sceneggiatura mancante tutto questo appunto ha dato una grandissima fluidità a nostro parere al progetto e quindi la mancanza di denaro ha avuto come risvolto positivo il fatto di lasciarci una libertà assoluta nell'esplorare diversi approcci che avremmo potuto adottare per raccontare questa storia. e quando ho metto Cristina ho realizzato nel primo momento che lei è la right character e ha la capacità di agirare e ho realizzato nella scena di agirare e le attività e le attività e le attività e le attività. e la scena di agirare e le attività e le attività e le attività, ma non aveva, ma non aveva, ma si non aveva, ma solo reagire a la scena. and in the next block we were like getting higher like how to say yeah first we shoot observational scenes and then we have some improvisations and in next block after improvisations other actors which most of them was amateur actors non-professionals some are professional actors he had text but Christina not because all other participants had much more experience in acting than than Christina and in one moment we started to give Christina text but in small doses and until the end of the project she was really able to we put it the most complicated acting scenes and since with a lot of text for the end and on the end she was really able to act and all also she was started to giving me several options do you want to act it in this way or in this way and it was really really wonderful so I think that we succeeded to to make actress from her and I am especially proud on on scene on on a bench where Marco in which I think that it is hard of 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 the film which is without acting at all where Marco and Christina are only themselves and this scene is is really, really sincere and have a lot of truth in that scenes and I really like it. And they have several inputs just to connect the story, Milanka was behind the camera and giving them like inputs from the script, but they had in 98-97% just be themselves and talking honestly to each other and yeah. It was already a person and an interpreter at the same time, with an innata capacity to recitare, not having frequent any school of art dramatic, and the work that I did with her was just on this nature, this nature of recitative and attorial. Con lei abbiamo proceduto in una sorta di lavoro a blocchi. Il primo è stato quello di scene di osservazione in cui sostanzialmente non era necessario alcun tipo di dialogo. Poi è eseguito un blocco di improvvisazione, quindi ancora una volta con delle linee guida ma senza un testo preciso. Poi gli altri attori che recitavano il loro testo fossero essi stessi professionisti o non professionisti comunque con un'esperienza di recitazione e lei reagiva fino ad arrivare alla parte finale in cui a piccole dosi è stato inserito un vero e proprio testo da farle dire. E questo avviene naturalmente nella parte finale del film quando abbiamo girato le scene più complesse. E siamo arrivati al punto con Cristina che era lei a offrirmi varie opzioni e modi diversi di dire le sue battute di dialogo, il che è stato assolutamente meraviglioso e testimonia di tutto il percorso che lei ha fatto. Io sono particolarmente felice della scena in cui lei con Marco sono sulla panchina e sono assolutamente se stessi. Sono estremamente sinceri e dicono la loro verità senza più dover recitare o dire un testo. e sono loro stessi che hanno trovato il nesso e il legame forte con i personaggi e con la storia nel suo insieme. Il contributo di Milanka è stato assolutamente fondamentale perché stava con me dietro alla macchina da presa e dava delle indicazioni precise rispetto al testo che devo dire è stato rispettato al 97-98% ed è stato meraviglioso vedere il lavoro che tutti gli attori sono stati in grado di fare. Milanka credo che vuole aggiungere qualcosa? Lemb pozi, mi parebbe Milanka preferito aggiungere qualcosa. E lo smo all'inizio? O se, a tutti, io raccomando. E così, grazie. Certo. 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 e zanimljiv proces, zapravo bio proces u com' sam uživala, da koliko godi je bilo s jedne strane i dugotrajno i možda, mislim, bilo è stato molto utile, ma è davvero donosito una sorta di fiducia in modo da siamo uspevoli da si uspettiamo con gli aspetti che si sono realizzati. Buongiorno. Io voglio solo aggiungere che il lavoro è stato lungo e complicato e articolato come avete visto nel film, ma allo stesso tempo il superare, poter rielaborare e superare queste cose che sorgevano man mano ha aggiunto un valore in più a ciò che stavamo facendo, al processo di creazione, a ciò che abbiamo fatto. Chciao solo da dire che è davvero che è davvero il più importante è stato è stato di fare scrivere un scenario e la cosa che vorrei sottolineare è che all'inizio siamo partiti con l'idea non di scrivere un film di funzione basato sulla personalità concreta della protagonista ma di aiutare lei di man mano a trovare ciò che avrebbe potuto recitare per esprimere se stessa. Htiella sam još samo da kažem da sam ja završila filozofiju i da mene zapravo interesują filozofske teme e da je Cristina bila odličan karakter da se bavimo pitanjem ljubavi uopšte a posebno bezoslovne ljubavi. Ako hočete to pa onda još nešto samo da da. E poi la cosa per me importante è stata che essendo io laureata in filosofia ero soprattutto interessata alle questioni filosofiche da affrontare e quindi Cristina per me è stato un soggetto che mi ha permesso di indagare a fondo la questione dell'amore in sé quant'è e poi l'amore totale che abbiamo indagato. I zapravo imamo različite slojeve pitanje ljubavi u tom filmu od ljubavi sa kucinem i ljubinzem prekonok što se uslovno zove prodaja ljubavi do ljubavi sa prijateljima in kraju ljubavi premo poku. Perché nel film noi solleviamo diversi livelli dell'amore sia dei nostri animali domestici, l'amore per i nostri accuditi, l'amore che si vende con i clienti che affronta il protagonista, l'amore e il voler bene agli amici e tra gli amici e in ultimo livello l'amore che si esprima nel film di quella direzione. Abbiamo cinque minuti per il pubblico se vogliono fare delle domande. Buongiorno, vorrei chiedere a entrambi quali sono gli obiettivi con cui avete iniziato a scrivere e raccontare questa storia e qual è l'effetto che adesso a fin finito vorreste suscitare nel pubblico che guarderà il film. Grazie. L'effetto che volete suscitare nel pubblico che guarderà il film. Risponde Milanka. Znači, ovo nije priča, ovo nije priča samo o seksualnim radnicima i transgenderima, nego je ovo priča o svim ljudima koji su drugačiji, znači to je prva stvar koju smo hteli da isprišamo, a što se tiče ovog šta smo hteli da postignemo, zapravo ta poslednja scena, znači chcieli smo da postignemo to da nakon poslednje scene ljudi razmišljaju o tome zašto se ona okrenula i otisla, da li time što razmišljaju o njoj da počino da razmišljaju o sebi. Znači, innanzitutto quando abbiamo fatto questo film abbiamo sollevato diverse questioni, soprattutto lui ha indagato tra i cosiddetti lavoratori del sesso per trovare, la protagonista per trovare cosa vuole raccontare nel film. Dopo queste ricerche siamo giunti alla conclusione che ciò che raccontiamo nel film è la questione del rapporto con i diversi che rappresenta il protagonista e l'effetto che vorremmo aggiungere si racchiude nell'ultima scena del film. Quando lei se ne va, questo spinge lo spettatore di riflettere su quello che ha visto di lei, ma anche indagare se stesso. Grazie. 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 And I want just something to add. We also wanted to deal with our society because in Serbia we had like two different countries, one which is more like right traditional and the other which is more left liberal. And we wanted to make film in which we will make some kind of peace between that two poles or fractions. In political way we also wanted to make a film which is in the middle, like everything else. Vorrei aggiungere una cosa, abbiamo avuto molto presente anche il contesto sociale, la società che è abbastanza divisa in Serbia, è come se ci fossero due paesi, nel senso che all'interno dei confini del paese esistono due fazioni precise, da un lato un orientamento politico verso destra più tradizionale e conservatore, dall'altro un metà paese che invece si muove più verso un atteggiamento liberal e più di sinistra. Il film è stato il tentativo di rappacificare queste due parti. Abbiamo cercato anche a livello politico di fare un film che stesse nel mezzo. E questo è sicuramente un nuovo argomento per la nostra società che diventerà sempre più significativo in futuro. Grazie, grazie tante, grazie per aver condiviso il vostro lavoro con noi, che è un lavoro molto importante. Grazie al pubblico, dobbiamo chiudere, buon proseguimento. Grazie. Grazie.